30 anni di carriera ma che ha avuto, devo dire, anche una vita tutt'altro che facile Sto parlando di Francesco Benigno, ciao Francesco, benvenuto Buonasera, buonasera, grazie dell'invito Grazie, buonasera a tutti E prima di vedere tutte le tue cornici ti vogliamo raccontare così Il debutto al cinema di Francesco Benigno è avvenuto per caso Quando nel 1989 il regista Marco Risi lo ha notato e scelto per il film culto Mary per sempre Da allora ha dato prova del suo talento sia sul grande schermo che nelle fiction più amate della tv Ma lontano dalle luci della ribalta l'attore palermitano ha vissuto anni di buio profondo Che hanno segnato in maniera indelebile il suo sguardo E allora raccontiamo un po' la tua vita Questo alternarsi continuo di successi, periodi bui Però ancora altri successi E l'album di famiglia non è mai stato così pieno di cornici Sono queste E ad ogni cornice c'è una parola chiave Partirei dalla cornice 13 13 Cosa c'è scritto? Leggiamo Sono il dodicesimo di 13 fratelli Ah pensavi che avessi fatto 13 a totocalcio? Quello Purtroppo no Sì è incredibile perché sai nell'epoca moderna ormai uno o due figli al massimo se si riesce a fare Noi 13 eravamo un anno più grande dell'altro Cioè ogni anno tua mamma era incinta? Per 13 anni Per 13 anni Purtroppo anche per causa di questa cosa qui Poi è venuta a mancare A soli 46 anni Ho perso mamma Avevo 9 anni Scusami Quindi tu a 9 anni ti ritrovi con questa famiglia numerosa Senza mamma Senza mamma Poi Ti hanno messo in collegio? Sì I fratelli adulti hanno fatto la fuitina Che era già fidanzatino Siamo rimasti in quattro con papà Che era un papà bello tostarello E quindi è stato difficile perché io prima che morisse mamma Ho trascorso insomma la mia infanzia Tra un collegio d'inverno e una colonia d'estate Perché neanche in estate mi facevano tornare Neanche per le feste di natalizie per dire Cioè scusa tu a Natale stavi in collegio? Sì eravamo quei 4-5 che non avevano la possibilità neanche di tostare E tornare a casa per le feste di Natale Insomma Cioè scusa e tua mamma non poteva venirti a prendere? No perché non sapeva chi doveva badare prima Eravamo tantissimi Poi mio padre era assente Quindi il più grande studiava medicina Che poi si è laureato C'è un fratello medico adesso in pensione Ho una sorella di 70 anni Una sorella di 70 anni E la più piccola ha compiuto 50 anni da poco E quindi E com'era stare in collegio? E com'era? Era dura Era dura Certamente uno Il desiderio è di stare con mamma Io me la sono goduta pochissimi Ho dei ricordi Veramente Pochi Pochi Ma me li custodisco veramente con tanto Con tanto Con tanto amore È stata una donna Che mi raccontano Mi raccontano Le persone che l'hanno conosciuta Una donna veramente Che per i figli Si faceva in quattro Infatti io Poi magari Più là ne parliamo Tutto questo percorso di vita L'ho raccontato nel mio film Quindi poi Quando stava arrivando il momento di potersi godere mamma Purtroppo è arrivata questa notizia Che per un tumore all'intestino Ci ha lasciati E quindi lì Vivere con mio padre Che era analfabeta Era un giocatore d'azzardo Se vinceva era buono Se perdeva erano guai Quindi è stata una vita difficile Perché poi Insomma mi sono ritrovato Che mi metteva le catene alle caviglie Mi legava le catene Con le catene alle caviglie Per non farmi uscire di casa E' stata dura però Beh una volta tu sei scappato però Si Sei scappato Non ce l'ho fatta più A 13 anni sei scappato Si Ho fatto la prima fuga Mi è venuto a cercare solo uno dei miei fratelli Che ti ha detto? E mi ha detto che papà era preoccupato Io ho detto Tu sei guarduto? Guarda che se io torno a casa Quello mi ammazza di botte E così fu Ho la testa piena di cicatrici Perché mio padre usava il mestolo E il cucchiaio di legno Come lo chiamiamo noi a Palermo Quello per girare E mi puntava bello dritto in testa E ho la testa piena di cicatrici Perché ne ho prese Però siamo qui Abbiamo lottato Ce l'abbiamo fatta E a 14 anni Te ne vai via Per sempre E la prossima cornice Strada In strada tu dici Sopravvive il più forte Beh si Perché la strada che ho vissuto io Erano gli anni 80 Insomma I fatti di cronaca Li conosciamo tutti C'erano 100 morti al mese Ammazzati a Palermo Gente che ho conosciuto Anche nei quartieri di Palermo Perché io giravo molto Frequentavo i quartieri di Palermo Il Borgo Vecchio La Vucciria Il Capo Ballarò E quindi si incontrano le persone Si conoscono E poi magari ti arriva la notizia Che sono stati assassinati Quindi è stato un rischio quotidiano Non era meglio stare a casa con tuo padre? Forse col segno di poi Forse sì Non lo so Certamente non sentivo l'affetto Perché comunque aveva 14 anni Cioè 14 anni E si è un ragazzino Però sono cresciuto in fretta Sono cresciuto in fretta E quindi mi ritengo Mi reputo una persona fortunata Come si fa a sopravvivere per strada? Cioè ora noi tutti abbiamo una casa Una famiglia Siamo fortunati Ci possiamo permettere una cena Un pranzo In inverno si è freddo Si accendono gli scaldamenti Cioè siamo tutti noi persone fortunate Guarda io ho vissuto per nove anni Dormendo dappertutto Che vuol dire dappertutto? Ho dormito alla stazione Alla sala d'aspetto della stazione Nei vagoni di treni fermi Ho dormito dentro le macchine Ho dormito in un tempietto A Piazza Politiama Era una persona che mi ha accolto in famiglia E da lì ho trovato quel calore di una famiglia Chi è questa persona che ti ha accolto in famiglia? È un ragazzo che ho conosciuto per strada E mi ha ospitato a casa sua a Borgo Vecchio Un quartiere di Palermo Era una famiglia pure tra l'altro di nove figli Beh generosi però Mi hanno accolto in famiglia Ed è come insomma sono cresciuto con loro Per me come se fossero i miei fratelli Le mie sorelle Oggi insomma i figli di questi amici Sono belli grandicelli Mi chiamano anche zio Perché insomma Li ho cresciuti Li ho allattati Allattati non esageriamo No 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 Allattati con il biberone E proprio in quel periodo Succede una cosa bella nella tua vita Mary Vorrei aprire questa cornice Mary Perché Mary per sempre Mi ha salvato Pensa guarda Mi sono passati 30 anni Ha compiuto 30 anni Il 4 maggio del 2019 Guarda io Il film che ho fatto E' stato anche un tributo a Marco Risi Perché sono sicuro Che se non mi avesse dato Quest'opportunità Probabilmente non eravamo qui A parlarne Devo fare solo un piccolo appunto A Marco Risi Che ho cercato Ho chiesto Veramente con il cuore in mano Di partecipare al mio film Facendomi un cameo E nonostante le ho provate tutte Non ha accettato di partecipare al mio film E questo mi è dispiaciuto molto Proprio perché credo che Marco Sia colui che ha dato un senso alla mia vita Mi sceglie Mi sceglie per questo film E che però Io non ero andato a fare il provino Io accompagnavo un ragazzo Di quartiere Che aveva già fatto un provino Marco l'aveva quasi preso Doveva rivederlo Mi chiese un passaggio Io l'accompagnai in questa emittente palermitana E nell'attesa che lui finisse di fare il provino Marco incuriosito della mia presenza Si è avvicinato e mi ha detto Ma scusa tu che cosa sei venuto a fare qua Visto che sei qui Mi ha detto accompagno il richetto Visto che sei qui Perché non fai il provino per me anche tu Ho fatto il provino E la fortuna ha voluto Che lui mi scegliesse per me Per sempre Inizialmente dovevo fare Pietro Il personaggio che interpretò poi Claudia Mendola Che poi per esigenze di produzione Insomma Marco mi affidò il ruolo di Natale Meno male Perché così ho potuto fare anche il seguito Che ragazzi fuori Che andò a Venezia Vince il Pazzesco Dalla strada Rischiando la vita tutti i giorni Stata dura Dormendo ovunque Arrivi a Venezia Cioè pensate la vita come strana Posso anche dirlo 3 milioni e mezzo Delle vecchie lire Per Mary per sempre E 15 milioni Per ragazzi fuori Per 1990 Erano E quindi Mi sono comprato una petta E ho continuato a lavorare nei mercati E la gente mi fermava E mi diceva Ma lei Ma tu sei l'attore Ho fatto questi due film E' stato E' stato bravo E quindi Perché non prova a continuare E quindi A quel punto Ho cominciato a capire Che forse era la mia Strada Era la mia strada E mi sono trasferito a Roma E a quel punto Il successo continua Arrivano le fiction Arriva anche la piovra Vediamo cosa abbiamo di te 90 Ecco qua Stanno tutti Fino all'ultimo centesimo Ma perché fate quella faccia? Contento dovete essere Certo Con questi quattro soldi Vi siete messi l'anima in pace State bene State tranquillo Certo Come no? E ridete Su Ridete Ecco Così Bravo Ciao Biagio Come stai? Ti vedo bene Ti trovo in forma Stati calmi Che mi volete fare? Niente Luzzo ti vuole parlare 1995 1995 Sognavo di fare la piovra Quando Luigi Perelli mi ha chiamato Ho fatto il provino E ho detto Guarda non mi dire Non mi parlare di soldi La faccio pure gratis Io voglio fare la piovra E quindi Ho avuto questo grande onore Di partecipare in questo sceneggiato Meraviglioso Che ha girato il mondo Visto in tantissimi Bella questa foto di gruppo Bellissima Questa sì Questa è subito dopo Ragazzi fuori Eravamo in una festa di piazza Di Palermo Quelle famose feste Che per il momento Stanno facendo tanto discutere Il mio melodico Quella roba lì Ed ero insieme a Michele Placido E se oggi Francesco Benigno È un uomo nuovo E parla in maniera diversa Rispetto al passato È anche merito Di una donna Di una ragazza Che è accanto Da un bel po' di anni Sei anni Sei anni Sei anni E lei ti ha aiutato tanto Anche da Anche per uscire Da questo buio E ti ha avvicinato Anche da Fede Questo Posso far entrare? Eh certo Magari Non vedo l'ora Valentina? Banca da qualche minuto Mi sento un po' in difficoltà Dov'è? Valentina Vieni da me Ciao Valentina Che bella Sono Caterina Ti abbraccio Grazie per l'ospitalità Grazie a te Conosci questo attore Aveva un sogno Quello di fare il film Della sua vita E si era interrotto Questo sogno E arrivi tu Valentina Un raggio di sole Nella vita di Francesco E comincia a illuminare E comincia a illuminare questa vita Allora intanto lui Ha illuminato me In un momento Particolarmente difficile Anche per me Proprio nello stesso momento In cui io ho conosciuto lui Quindi c'è stata questa Reciprocità Di luminosità Io mi sono ricata Proprio ai casting Del film E lì In punta di piedi Perché mentre lui Stava cercando I protagonisti Per il suo film Incontro a Valentina È stato fantastico Posso Perché Sono venuti 3.000 persone I casting Del mio film Era una cosa allucinante Non sapevamo Come gestire La situazione A un certo punto Busa nella porta Francesco C'è un'attrice Che viene da Roma Ed entra lei Dico Falla entrare Siediti pure Ci presentiamo E subito Quando Quando l'ho guardata Negli occhi Immediatamente Mi ha trasmesso Quello Che pensavo Di non trovare Mai più Nella mia vita O meglio Che non avevo mai Trovato Nella mia vita Pensa Non c'era il ruolo Per lei Per il mio film Però Io ho detto Scriverò qualcosa Perché tu possa Essere nel mio film E lei non aveva capito Perché io ho detto Ti faccio fare L'assistente di Marco Risi Perché la storia Racconta Insomma In flashback E lei mi ha detto Va bene Pensavo insomma Che io la chiamassi Per fare produzione Per fare parte Dello staff Poi la cosa Che mi ha incuriosito Particolarmente E poi lascio la parola A lei Che mi arriva Una telefonata Un giorno Rispondo al telefono E dice Buonasera Sono Valentina Magazzù Ho fatto i casting Siccome devo fare Un pellegrinaggio A Meggiugorio E volevo sapere Quando iniziano Le riprese Se posso andare Se non posso andare Ho detto Ma guarda Sono io Francesco Benigno Non me l'aspettavo Ho avuto questo numero Perché mi hanno contattato Perché avevo dato Il numero a mio nipote Chiamo a tutti Ci siamo visti Ho fatto un invito Perché mi aveva incuriosito Che una ragazza A 32 anni Facesse un pellegrinaggio E lì abbiamo cominciato A conoscersi A frequentarci Siamo stati Otto mesi amici Perché proprio Non mi ha dato Neanche un bacio Neanche Volevo conoscerlo E più mi negava Il bacio Più ero attratto Da lei Perché ho detto Oh Allora Ancora esistono Quelle donne E allora apriamo L'altra cornice L'ultima cornice Perché l'ultima cornice È dedicato proprio a te Valentina Sono rinato Grazie a lei Dopo otto mesi Ti dà questo bacio E da quel bacio Non vi siete più lasciati Sì era il 10 agosto Sì era il 10 agosto E stiamo insieme da allora Con questa crescita quotidiana E finalmente avete fatto i film Sì perché io Il nostro sogno Il suo ma è diventato il mio anche Il colore del dolore Palermo Palermo 30 anni prima Mi sono trovato a faticare nel lavoro Ho fatto prima un cortometraggio e ho vinto il Giffoni e il Grifone d'Argento al Giffoni Film Festival L'ho girato un mediometraggio scritto da mio figlio un paio d'anni fa E ho aperto un'associazione culturale per dedicarmi ai giovani palermitani Per dare opportunità di riscatto anche a loro Come mi è stata data a me da Marco Risi E con una squadra di palermitani amici Anche Ficarro e Picone mi hanno dato una mano Bravi Li ringraziamo Li ringrazio pubblicamente Sono riuscito a realizzare questo sogno Che spero il 12 marzo uscirà in tutta la Sicilia sicuramente Ma spero che riesca a uscire anche in tutta Italia Perché ho fatto penso un ottimo lavoro Un ottimo lavoro Ed è il Francesco Benigno che racconta 30 anni prima Quello che era la Palermo di 30 anni fa Ed io interpreto l'assistente sociale Lei fa un ruolo all'interno del film Devo dire se l'è cavata alla grande Ho sempre sognato Caterina Ti ringrazio di fare l'attrice Quindi ho studiato alla scuola di Enzo Garinei nel 1999 Quando mi trasferì a Roma proprio per tentare questa strada E poi piano piano nella mia Sicilia a Palermo Ho cominciato a condurre dei programmi Abbiamo parlato degli amori di Francesco Benigno Perché Francesco poi ha avuto anche due figli Con due donne diverse Prima è nominato tuo figlio E a proposito di tuo figlio C'è qualcosa per te Che senso Ciao papà Volevo mandarti un mega bacio da parte mia di Simona E dei tuoi nipotini Elodie a Francesco Sono orgoglioso del papà che sei E di tutti i sacrifici che hai sempre fatto Ti voglio tanto bene E sono felicissimo che oggi il tuo sogno si stia realizzando E spero che ti prenderai grossissima soddisfazione Ti mandiamo un caloroso abbraccio e un mega bacio Ciao papà Ciao Giù Lui è Giuseppe Trent'anni Mi ha reso nonno Di due meravigliosi bambini Francesco e Deleudine Gemelli? No no Elodie tre anni E Franceschino benigno come il nonno Che ha un anno e un mese Ragazzi meravigliosi Ho due figli veramente Che non posso dire niente Perché sono meravigliosi Condivido eh Sono dolcissimi Mi vogliono bene tutti Perché Palermo è una città difficile Quindi c'è sempre il chiacchiericcio magari Ma quando mi parlano di mio figlio Mi dicono è un ragazzo meraviglioso Valentina vai d'accordo con loro? Assolutamente sì Come non poter andare d'accordo? Valentina con Giuseppe Proprio Con entrambi Assolutamente Mi dovete fare una promessa A ridosso dell'uscita del film Visto che sarà nelle sale in Sicilia Speriamo anche in Italia Il 12 marzo Tornate qui Magari Ma con molto piacere Magari E affrontate le domande scottanti Perché ora tutto questo amore Voglio capire se sotto sotto Grazie dell'invito Grazie a voi Noi ci vediamo lunedì Domenica Se potete riposate Ciao a tutti Grazie Valentina Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti